Praticare questa disciplina perché è innanzitutto una disciplina acrobatica, per noi ex ginnaste è una buonissima possibilità per continuare a fare attività anche dopo la carriera del ginnaste. È molto divertente, si pratica in coppia e non è uno sport individuale, questo sicuramente è importante ed è molto valido come sport sia a livello fisico che a livello... È uno sport a tutti gli effetti, pur essendo considerata una danza, la preparazione fisica, gli allenamenti corrispondono in buona parte a quelli della ginnastica per quel che riguarda l'acrobatica. Lo pratichi all'Andrea Doria, quante volte alla settimana? Noi ci alleniamo tutti i giorni, sei giorni su sette, talvolta facciamo anche doppi allenamenti alla mattina e alla sera. Quanto è importante la preparazione fisica come hai detto tu e anche quanto è importante la sintonia con la base musicale? Molto importante la preparazione fisica, sicuramente abbiamo un potenziamento, una preparazione molto dura e la sintonia con la musica è altrettanto importante, quella si esercita diciamo col tempo. Tu e il tuo partner ce lo presenti, insomma come vi siete trovati, come si crea il feeling? Certo, lui è Simone Cavalera ed è un ex ginnasta agonista come me, ci siamo conosciuti in palestra, entrambi alla ricerca di uno sport che potesse in qualche modo sostituire quello della ginnastica. La stagione, i risultati, come sta andando? Allora, noi abbiamo partecipato ai campionati italiani, sono andati molto bene, ma soprattutto ci siamo fatti strada in campo internazionale partecipando a Coppa del Mondo a Zagabria, il campionato europeo a Mosca e il mondiale di Lione. Cosa vi aspetta? Ci aspetta il campionato del mondo di Ginevra a novembre per il quale ci stiamo allenando da un anno e mezzo praticamente. Quali consigli a potenziali nuovi praticanti? Quali consigli? Continuate a fare sport anche dopo la scuola, il nostro è uno sport per adulti, quindi mi sento di consigliare questo sport a tutte le ragazzine che magari non fanno più ginnastica e comunque vogliono tenersi in forma e divertirsi. Quindi continuate a farlo come facciamo noi. Simone, tu pratichi rock and roll da un anno e mezzo, cosa ti ha spinto a iniziare? Ma innanzitutto avendo fatto già ginnastica artistica agonistica molti anni fa volevo un pochino rimettermi in gioco in questo mondo di sacrifici, di emozioni, di allenamenti. Il motivo principale è stato la sua conoscenza che mi ha un po' trascinato a provare uno sport nuovo e poi il fatto che comunque sia uno sport che ha a che fare sempre con la ginnastica artistica, quindi un po' la passione di una vita trasformata in questo sport che anche dopo una certa età si può continuare a fare. Andrea Doria, ovvero un ambiente insomma a misura di sportivo, quindi ginnastica e anche rock and roll. Esattamente, è una struttura completa, si può fare qualsiasi cosa già da qualsiasi età, io prima in un'altra società e poi anche in Andrea Doria ho fatto ginnastica artistica ed ho continuato con rock and roll acrobatico e lì tutti i giorni continuiamo a far diventare questa società sempre più completa. Quali sensazioni provoca il rock and roll acrobatico? Insomma, vediamo delle immagini davvero spettacolari dove per esempio riesce a far volare la partner ad altezze inimmaginabili. Come si raggiungono certi risultati? Come diceva la mia ballerina, appunto ho tanto tanto sacrificio, potenziamento e tutto il resto. Non bisogna mai mollare, anche soltanto 3-4 giorni di stacco si inizia a sentire la difficoltà di riprendere certi movimenti, un certo fiato, un certo ritmo. Le emozioni sono tante, dal mio punto di vista stare lì sotto e vederla in alto che volteggia è sinonimo di responsabilità, ma anche di emozione perché vedo tutto quello che sta succedendo con una certa prospettiva e la carica è tanta durante il ballo. In Italia come siete collocati? In Italia siamo collocati nella classe più alta, la classe A e da due anni consecutivi vinciamo i campionati italiani. Un sogno da realizzare in questa disciplina? Sarebbe bello entrare nei primi 10 e io mi accontento per il momento nei primi 10 al mondo. È molto difficile e i russi soprattutto sono tanti, preparatissimi e hanno dei livelli molto alti, contando che in Italia non è uno sport che viene fatto a livello professionale, ovvero noi facciamo la nostra vita, studiamo, lavoriamo e in più ci alleniamo, mentre all'estero viene fatto solo quello durante tutta la loro giornata.